1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 2 Eccola! Tutto in diretta, proprio in caso di... Tutto straordinariamente in diretta, vai! Tutto straordinariamente in diretta Ciccericcio incontra Elodie! Elodie incontra Ciccericcio! Che bello rivederti dopo pochissimo tempo, ma hai macinato tante emozioni, tanti chilometri, tanta gente conosciuta Beh, sono molto contenta, è un periodo molto intenso della mia vita, spero di fare tanto altro Io, l'importante è fare, si dice, nella vita, io questo faccio, poi vediamo, i risultati si vedranno col tempo Eccoci! Buon pomeriggio! Grazie mille, grazie mille, grazie mille, è un amore per me, grazie mille Si vedranno i primi risultati il 26 aprile a Alcatraz Milano praticamente Sì, ci sarà il mio primo live, sono molto emozionata, sono piena di aspettative nei miei confronti, spero di essere all'altezza e di emozionare Le invitiamo già ai nostri ascoltatori, il 26 aprile a Milano a Alcatraz e a Elodie per questa prima straordinaria, ci saranno ospiti? Ma in realtà, allora, se tutto dovrebbe andare come va, diciamo, ecco così, ci dovrebbe essere Loretana Bertè E poi non si sa, già so che c'è lei, speriamo anche magari Ziba, non lo so, per il momento ho invitato Loretana e ha detto che se non lavora, c'è Può essere, può essere, può essere Se fosse tutta colpa mia, non me lo perdone lei, quante volte hai detto, il tempo non cancella, nella mia stanza l'odore di noi, che non passa mai, che lentamente scivola come pioggia su di lei Quindi il 26 aprile, prenotate già adesso questa prima data prima, no? La prima data, sì, si può dire, prima data prima Prima data prima, con magari anche Ziba, che insomma è uno degli autori che ha collaborato con te in questo bellissimo album Grazie, sei troppo gente Raffinato Sei esagerato Sei andata veramente al cuore della musica, ma non è l'unico con cui hai collaborato, c'è anche Amara, che ha scritto il pezzo di Fiorella Magnoia Sì, c'è Amara, c'è Ermal Meta, c'è Jack Giasselli, Federica Abate, La Camba, cioè ci sono tanti artisti, sia Uomini che Doni, c'è Roberto Angelini, ci sono tanti 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 artisti che hanno contribuito a formare questo album e io sono orgogliosissima E anche noi, perché c'è anche un po' di Puglia, no? Nella tua storia Beh, direi, sì, certo Siamo sempre molto orgogliosi di Elodie, che è su Ciccioriccio, grazie Grazie a voi, ciao Amore, 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 andiamo via Ti do gli occhi, non mi importa, ma tu portami via Amore, 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 amore mio Ogni giorno mi svegli e tu sei già andato via Allora, sono qui tra le cose da fare E cerco la calma, vivendo la normalità Amore, 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 amore Amore, 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 amore